Ed eccoci qui. Fa freddino e mi sono coperto come si deve. Ma non siamo più qui per questo. Ora tocca a me presentare a chi mi segue due dei punti più alti della storia della cinematografia globale. Sigla. Due film che non hanno segnato la mia infanzia, ma che hanno fatto scoprire in me un lato fanciullesco che pensavo avessi perso per strada. Da una parte la conclusione di una trilogia inattaccabile. Dall'altra il trionfo dell'originalità e dell'arte dell'omaggio. Sì, perché anche ricorrere all'omaggio è una mossa che si deve padroneggiare con cura. Grazie a questi film, la commedia, il dramma, la fantascienza, il film romantico, esplorano una nuova dimensione. Gli orizzonti si ampiano, abbracciano una frontiera mai scoperta sino ad ora. L'animazione irrompe finalmente nella nostra coscienza e la scuote. Questi due film in particolare potrebbero essere lasciati come testamento. Perché diciamocelo, hanno segnato la svolta definitiva nel mondo dell'animazione. Il lavoro all'interno di scatole elettroniche, ora convincenti mezzi per fabbricare lungometraggi che sembrano in live action. La Pixar non è più solo un marchio di fabbrica, è dispensatrice di sogni, di poesie visive, di storie di incommensurabile bellezza. Ah, Toy Story. Una saga che ha fatto capire ad un pubblico all'inizio scettico sulla manovra commerciale compiuta dalla Pixar come portare avanti un discorso, un'idea di fondo e lo ha portato a termine nel migliore dei modi. I giocattoli qui rappresentati come simboli chiave della nostra infanzia, libera, espressiva, senza limiti imposti da qualcosa o da qualcuno che potrebbe compromettere la nostra pervida immaginazione. Ma, beh, tutti noi cresciamo ad un certo punto e veniamo messi di fronte ad un'ardua scelta, aggrappati fino all'ultimo ad una vita spensierata e giocosa che ci ha regalato tante emozioni. ma decisi a spiccare il volo verso nuove strade per la completa maturità. Strade che, ahimè, ci mettono a dura prova. Si è veramente pronti a lasciare la prega. Woody e Buzz hanno stabilito un'amicizia senza pari. Ci hanno coinvolto nel loro viaggio alla scoperta di loro stessi. Ci hanno presentato i loro compagni di avventura. Mister e Mrs. Poteto, i miei preferiti. John Lasseter, il creatore di questa trilogia, ci ha preso di forza. Ci ha messo nei panni di Andy. E così abbiamo partecipato in prima persona ad un arco narrativo lungo tre film, ricco di inventiva, di colpi di scena, di frenesia e di risate. Alla fine di questo percorso sono lì. La banda al completo. E noi, nella parte dei loro padroni, ci guardano e ci sostengono. Loro sono lo specchio di quello che siamo stati. Ci salutano e ci ringraziano per essere sempre stati al loro fianco, nel bene e nel male. Noi siamo in loro e loro in noi. Ma quello che sappiamo per certo è che conserveremo parte di quello che eravamo in un angolo del nostro cuoricino. E i due mitici giocattoli rimarranno parte integrante di noi per il resto della nostra vita. E arriviamo a Wall-E. Tenero, adorabile robot, sostenitore di una causa forte da trasporre al cinema. La natura non deve essere contaminata dalle scorie che noi vi riserviamo per essa. Un sacro componente del nostro pianeta, mai così distrutto per colpa di nostri errori. Un film d'animazione, sì. Ma con uno sguardo agghiacciante a quello che potrebbe benissimo capitare sulla Terra, se noi non dessimo sufficiente occhio di riguardo a ciò che ci circonda. Ci limitiamo quindi a scappare, a lavarci le mani, persino in un disastro ambientale di questa portata. Chiusi in una stazione orbitante, rincoglioniti davanti ai monitor che lavorano per noi e noi che non alziamo un muscolo. Ingrassati e incollati su degli sdrai galleggianti, aspettando di creparceli sopra. Un essere invece fatto di metallo e parti di composte che si rivela il nostro salvatore. Eccolo qui per noi, Wall-E. Le hanno riservato una presentazione di 40 minuti all'interno del film. Un omaggio esplicito a Charlie Chaplin, maestro del cinema muto. Quest'ultimo mise in scena le luci della città. Wall-E invece rappresenta la luce del pianeta. Il destino dell'umanità nelle mani di un semplice spazzino del globo terrestre. Luce di speranza, ma anche di un'altra cosa. Di un sentimento che tende ad essere via via sempre più malinterpretato. È l'amore. L'amore improvviso per la robottina laccata e potenziata in ogni suo particolare, Eve. Un amore che si evolve nella storia e che batte 10 a 0 tutti i film di stampo romantico visti sinora. Una relazione che esplode in una delle scene più belle e suggestive mai viste in una sala cinematografica. A danza nello spazio, signori e signore. Abbracciati loro due, come se nessuno stacolo li possa dividere. A volteggiare le giadri in uno scenario che Cuaron, con il suo gravity, lo ha definito ostile. Ma che qui, nel capolavoro della Pixar, assume le sembianze di un palcoscenico che regala alla platea il teatro delle emozioni più vere. E alla fine di tutto, nella mia mente, nel mio cuore, nel mio animo, questi due film di animazione sono arrivati a scolpire il loro titolo, le loro scene, i loro personaggi, il loro finale dentro di me. Prendo questi DVD e guardo alla vera evoluzione del cinema dell'età post-moderna. Mentre si stava parlando di chi aveva diretto il film di supereroe più ganso o di chi aveva raggiunto il traguardo conclusivo con la CGI. Beh, qualcosa che rispecchia anche la situazione attuale. Io credo in un cinema che metta ancora in primo piano la sostanza e lo sviluppo di un soggetto di indiscutibile valore e originalità. In un cinema che pone allo stesso livello la grafica e la potenza emotiva, narrativa, che viene sprigionata da interpreti che recitano meglio di attori in carne ed ossa. In un cinema che rispetta il lavoro compiuto nel secolo scorso e che alza l'asticella della spettacolarità con il compito di sconvolgerci e interessarci ancora alla settima arte. Io credo ancora nei cartoni animati che non devono niente, niente al progresso di questo mondo ma che sanno ancora donare il massimo di ciò che questo mondo può offrirci. Una delle poche ragioni per la quale esclamare meno male che sono nato negli anni 90. Ho potuto godere della visione di questi capolavori. Sono dei maledetti capolavori. Credete che stia esagerando? Allora, non amate il cinema come lo amo io. Siete d'accordo con me? Allora ho bisogno di sentirvi e di sapere se anche per voi questi sono i film Pixar preferiti e cosa vi hanno trasmesso queste perle indimenticabili. Qui Antonio Cianci, il raccatta film ha finito. Una recensione piuttosto insolita è un video che ho intenzione di fare da un po' di tempo a questa parte. Spero di mettermi in contatto con voi per parlare di questo argomento che mi sta particolarmente a cuore. E beh, ci vediamo alla prossima video recensione o classifica. Vediamo un po'. Un ringraziamento particolare a chi mi sta seguendo nel canale. Un saluto a tutti. Ciao, alla prossima. Evviva i film di animazione.